Essere qui al premio Braille, come rendere omaggio a un sogno che ci accompagna da sempre. Quello delle pari opportunità. Questo premio non è solo riconoscimento, è un himno alla fossa della condivisione, alla bellezza dell'illusione e alla dignità di che ogni giorno affronta Sibile con Coralicio. Il non è taghera dei ciechi degli ipovedenti, è una famiglia che guarda lontano e attraverso questo evento vuole ricordare che insieme riusciremo a creare un mondo migliore, più rispettoso di tutti. Grazie per chi crede in noi e nei nostri valori.